E probabilmente questo è dovuto, come noi sospettiamo, al fatto che non c'è trasparenza nei vostri finanziamenti, nel finanziamento del Partito Democratico. Noi aspettiamo ancora di sapere se alle cene della fondazione di Renzi Buzzi ha pagato oppure se voi avete intenzione di affrontare finalmente una legge sul conflitto di interesse. Noi adesso stiamo discutendo in Parlamento anche della possibilità di tracciare tutti i lobbisti che in questi anni abbiamo visto entrare senza nessuna regola durante le fasi più delicate della discussione parlamentare come la legge di stabilità, dove appunto il Partito Democratico e il Governo si fanno scrivere le leggi. Questo è inaccettabile. Passiamo all'interrogazione 3.2205 del Deputato Gigli sulle iniziative in ordine all'utemperanza di alcune sentenze del TAR del Lazio in materia di trattamento economico dei medici ex condotti al fine anche di evitare a gravi dispesa per il bilancio dello Stato. Onorevole Gigli. Prego. Un minuto. Grazie Presidente. Signor Ministro, la giustizia amministrativa ha disposto l'annullamento dell'articolo 133 del DPR 384 del 1990, in cui è stata recepita la disciplina dell'Accordo per il Personale del Servizio Sanitario Nazionale e ciò perché, violando il principio della perequazione retributiva, aveva congelato il trattamento economico dei medici ex condotti e li aveva esclusi dalle indennità previste per il restante personale medico. Nonostante le sentenze, le retribuzioni della categoria non sono state rideterminate e non è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione individuale di anzianità con ovvio pregiudizio economico per gli interessati. Nel corso dell'iter della legge di stabilità 2016, in Commissione e bilancio del Senato, il Governo ha colto un ordine del giorno su tale tema al quale, purtroppo, come al solito, non è seguita alcuna azione. Le chiedo quali iniziative il Governo intende assumere per sanare la questione dei medici ex condotti ed evitare a gravi dispesa derivanti da interessi e rivalutazioni giudiziarie. La ringrazio, onorevole Gigli. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Professor Piercarlo Pado, ha una facoltà di rispondere. Prego. Grazie, grazie Presidente, grazie onorevole. La questione sollevata dall'onorevole Gigli concerne il riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale. La materia è stata oggetto di emendamenti parlamentari presentati nel corso dell'ITER di conversione del Decreto-Legge 78-2015, enti locali, e del Decreto-Legge 210-2015, proroga termini, nonché in serie di discussione del DDL Stabilità 2016. L'ordine del giorno presentato in serie di discussione del DDL Stabilità 2016 recava l'impegno del Governo ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dovute agli eventi diritto, a valutare la definizione di ogni pendenza, ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo dell'intera disciplina contrattuale in materia, in ottemperanza delle predeterminazioni.